Qual è la prima parola che hai imparato in italiano? Non lo so se posso dire sul microfono, ma non lo so, ho imparato le basiche, non so, 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 non so. Qual è il tuo piatto preferito? Qual è la cosa che ti piace di più del Ticino? Qual è la cosa che ti piace di più del Ticino? Se non avessi fatto il giocatore di hockey, che lavoro avresti fatto? Non lo so, questa è una buona domanda. E quando si è più oltre nella mia carriera, devo iniziare a pensare un po' più. A che età e dove hai iniziato a giocare a hockey? Ho iniziato a giocare a mio local rink in Milford, Connecticut, quando ero circa 4 anni. Chi era il tuo idolo? Ho avuto alcuni, mi ricordo quando i Whalers erano ancora in Connecticut, ero un fan di Jeff Sanderson. Qual è il momento più bello della tua carriera? Nel liceo, il mio primo gioco di NHL, era sicuramente un po' di validazione per il lavoro che ho messo sui anni, e per giocare il primo gioco era sicuramente speciale. Chi è il più intelligente? C'è una domanda davvero buona domanda. Non lo so, abbiamo molti ragazzi smarti, molti ragazzi che apprendono 5-6 lingue. Ci sono molti ragazzi intelligenti, ma se ho avuto di prendere uno, magari Santi Altalo, proprio dal top della mia head. Tra i tuoi compagni, chi è sempre in ritardo? Turkov. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.